Favorire l'ingresso dei giovani della Regione Campania nel mondo del lavoro grazie all'opportunità offerte dalla progettazione europea. Questo è l'obiettivo del corso di formazione finanziato dall'Associazione Moby Dick, Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana e Provincia di Salerno presentato questa mattina. Gli obiettivi sono quello di dare una formazione sull'europrogettazione ai giovani diplomati universitari che poi attraverso l'apprendimento di quelle che sono le linee guida possono in sostanza attivarsi per produrre proposte attraverso idee che possono venire da enti o associazioni, proposte che possono essere presentate alla comunità europea. Quindi un corso ritengo che sia molto efficace e in questo momento noi abbiamo bisogno, dobbiamo produrre più conoscenze e competenze possibili in questo ambito e questo avviene attraverso i giovani in modo tale da poter aiutare a sostenere le amministrazioni, gli enti pubblici a poter presentare più progettualità possibile. Con la fondazione noi ci troviamo alla terza annualità a presentare un progetto sull'Unione Europea e sulla mobilità europea. Dopo i primi due anni di successo siamo giunti a questo punto a fare un vero e proprio corso di progettazione europea affinché i ragazzi del nostro territorio, anche più allargati della regione Campania, possano imparare i mezzi per poter presentare delle proposte progettuali concrete. L'organizzazione fa questo e tant'è vero che al termine di questo corso di formazione tre risorse verranno impiegate all'interno dell'organizzazione per poter dare una mano all'organizzazione e quindi vivranno un'esperienza dal vivo sulla scrittura di un progetto. Partiamo da una razionalizzazione dei costi e dall'idea che fare rete, fare squadra significa creare valore aggiunto. Quindi la disponibilità di mettere a disposizione una sede, delle risorse anche non economiche che però possono essere funzionali dall'organizzazione di un progetto di valorizzazione dei giovani, delle loro competenze è per noi un elemento di vanto e che diventerà sempre di più centrale nell'azione di sviluppo locale che le aree interne anche mettono in campo e vogliono costruire insieme ad altri enti quali la fondazione, la provincia e i comuni proprio per mettere su un progetto e un processo virtuoso.